L'evento del 2025 che vedrà come protagonista il Parco Nazionale del Pollino, secondo noi è fondamentale per la promozione e lo sviluppo del turismo, soprattutto outdoor. Noi a Saracena, nella nostra zona montana, che è Masistro e Novacco, stiamo investendo molto in questo. Abbiamo da poco completato la mappatura di 200 km di sentieri per la mountain bike, per il cicloturismo e riteniamo, per averlo fatto già negli anni, da 20 anni a questa parte, che investire negli sport di orientamento sia qualcosa di importante per lo sviluppo, ma soprattutto per la crescita anche di un territorio che vede e ha necessità di infrastrutturarsi con attrazioni che possono richiamare un pubblico variegato e soprattutto amante della natura, del vivere all'aperto e di questi territori inesplorati come i nostri. Consigliere, un evento internazionale di questa portata avrà bisogno di sostegno. Voi come lo supporterete? Il supporto sarà massimo. Già noi nel 2019 abbiamo ospitato un altro evento organizzato dalla FISO, quello per il 2025. Dedicheremo la massima disponibilità di quelle che sono, soprattutto mettendo a disposizione percorsi e territorio che è stato mappato con investimenti fatti dalle amministrazioni comunali negli anni precedenti, sia la zona di Novacco che la zona di Masistro. Quindi mettiamo a disposizione un patrimonio per l'orientamento che ci hanno detto ogni volta che sono stati oggetto di gare fosse molto bello e molto interessante per gli sportivi e per gli appassionati che partecipavano.